Acqua, energia, rifiuti e gas sotto un'unica regia, è utilitaria la nuova federazione delle imprese idriche, energetiche e ambientali, che nasce dalla fusione di federutiviti e federambiente. In Italia le imprese dei servizi pubblici locali di rilevanza economica partecipate dagli enti locali sono poco più di un migliaio, generano ricavi annui per oltre 40 miliardi di euro e occupano circa 120.000 addetti. Le priorità saranno legate al processo di rafforzamento della competitività delle imprese, lavoreremo anche a sostegno dei processi di aggregazione che il governo ha promosso con le ultime normative. Ci confronteremo poi sistematicamente con le autorità e il governo su tutta la partita della regolazione dei nostri servizi perché è molto importante. Noi non chiediamo favori, non chiediamo salvaguardia di posizioni di rendita, chiediamo un quadro giuridico e regolatorio chiaro, affidabile e che soprattutto consente alle nostre imprese di investire. La nascita di un'unica federazione consentirà anche di risparmiare sui costi di gestione. Il funzionamento della nuova federazione costerà meno della somma delle due precedenti federazioni e le imprese associate potranno beneficiare di questo perché i contributi, chiederemo le imprese, scenderanno.